Ci sono due siti versilesi nei 13 siti italiani preselezionati dal Ministero della Cultura per partecipare alla gara per il marchio del patrimonio europeo. Si tratta del sito di Sant'Anna di Stazzema e di quello del Museo dei Pozzetti di Pietrasanta, un primo step che sarà poi analizzato l'8 febbraio, quando la Commissione del Ministero indicherà i due siti che proseguiranno nella gara e che verranno presentati a Bruxelles entro il 1 marzo. Una grossa soddisfazione ha dichiarato il sindaco di Stazzema a Verona già anche solo essere arrivati a questo punto. I concorrenti sono concorrenti di alto livello, quindi Stazzema credo che dovrà faticare con questi concorrenti, quindi c'è Roma, Campidoglio ed altre realtà. Però noi siamo intanto soddisfatti per essere arrivati fino a questo punto e ci la mettiamo tutta per sperare fino in fondo che magari ci sia una sorpresa. A Verona fa eco Giovannetti. Già il solo fatto di esserci è motivo di grande soddisfazione, ha dichiarato il sindaco di Pietrasanta, e un riconoscimento della dimensione internazionale della città e del linguaggio universale dell'arte e della scultura che qui, grazie ai nostri maestri artigiani, trova da sempre una corsia d'eccellenza a disposizione dei più grandi artisti moderni e contemporanei.